Spinte, insulti, offese e umiliazioni, oltre ad atteggiamenti di prevaricazione e quanto accadeva all'interno di una casa di riposo di Ragusa, angherie su cui ha fatto luce la squadra mobile che ha individuato quattro donne come principali responsabili di tali violenze fisiche e verbali. Le operatrici sono state adesso rinviate al giudizio per maltrattamenti in concorso su anziani, sono tre le parti offese individuate dalla procura che aveva delegato le indagini alla squadra mobile di Ragusa. I fatti oggetto del procedimento sono stati cristallizzati dalle indagini tra agosto e ottobre del 2018. Le quattro donne dovranno rispondere davanti al giudice monocratico presso il tribunale di Ragusa nell'urienza fissata il prossimo 24 settembre dopo il rinvio al giudizio definito dal GIP. Gli elementi iniziali erano pochi ma sufficienti per far partire le indagini della sezione reati contro la persona della squadra mobile, messi di appostamenti, controlli, attività di osservazione hanno permesso di raccogliere inequivocabili fonti di prova a carico delle donne. Tutte, senza alcun motivo, deridevano. Gli anziani li spintonavano, insultavano, umiliavano quotidianamente chi più e chi meno, anziché prendersi cura di soggetti vulnerabili. Facevano esattamente il contrario, dicono gli inquirenti. Gli investigatori della squadra mobile hanno faticato ad ascoltare le tante richieste di aiuto e di assistenza da parte degli anziani. Violenze, purtroppo, di questo tipo non sono fatti nuovi nelle casse di riposo iblee. Il 26 giugno del 2018, gli agenti della Polizia di Stato di Ragusa hanno arrestato un cittadino di Vittoria per abbandono di incapaci, maltrattamenti, lesioni e sequestro di persona. I poliziotti sono intervenuti nella notte in una casa di riposo di Vittoria a far scattare la richiesta di soccorso. Le urla di un'anziana lasciata sola insieme ad altre cinque ospiti, la donna, per andare in bagno, era caduta procurandosi lesioni superiori a 30 giorni e aveva chiesto aiuto per ore, fino a quando i vicini hanno sentito le urla e hanno informato la polizia. Gli investigatori hanno scoperto che il titolare della casa di riposo aveva abbandonato gli ospiti a se stessi dopo il licenziamento di una detta per non pagarne un'altra. Inoltre, hanno accertato che l'anziana, malata di Alzheimer, veniva chiusa in bagno per non farle fare i bisogni fisiologici per terra, i poliziotti nel corso dell'intervento hanno trovato le donne chiuse a chiave in stanza e la porta della casa di riposo chiusa dall'esterno.